Marco Nesci su Facebook. 14 gennaio alle 9.47. È del tutto inutile discutere oggi degli anni del terrorismo, perché non si parte da una analisi reale del contesto storico in cui quella lotta armata avvenne. Non si fa neppure distinzione tra chi come il PC e con altri modi la stessa, nuova a sinistra, contrastavano la lotta armata. Oggi si fa solo propaganda funzionale ad un disegno strategico di massima legittimazione dei fascisti e delle loro azioni squadristiche future. Il nazista alviminale ha dato l'input. I criminali sono i comunisti. La stampa di regime fa da autoparlante e diffusione mediatica. Attenti si cambia la Costituzione e vuoi vedere che ci metteranno fuori legge. Occhio! 14 gennaio 2019. Se proprio volete capire qualcosa e non volete essere plagiati dall'informazione di regime, orchestrata dal nazista del viminale, andate a vedere da dove partono le origini storiche della lotta armata degli anni 70. A molti sembrerà strano ma l'origine fu il 12 dicembre del 1969, l'atto fu Piazza Fontana la bomba fascista alla Banca dell'Agricoltura con 12 morti e 88 feriti. Partiva la strategia della tensione la collusione tra servizi segreti, apparati deviati e il potere politico che da prima incolpò gli anarchici, uccisero Pinelli, favorirono i tentativi di golpe fascista come quello di Valerio Borghese, con tanto di apparato militare segreto, la Gladio, leggere a proposito, Cossiga, e poi coprirono sino a far assolvere tutti gli stragisti fascisti, Ventura, Giannettini e Feida, oggi libero come l'area estimatore di Salvini. Poi tutte le altre stragi fasciste da Piazza della Loggia, all'Italicus, a Bologna, con i fascisti tutti liberi e impuniti. I lavoratori avevano conquistato lo Statuto dei Lavoratori e i diritti oggi cancellati, la reazionaria forzo della grande borghesia italiana, dava la sua risposta armando e pagando le stragi fasciste. Questo è il contesto in cui una parte della sinistra si arma e avanza la lotta armata. Una parte perché il P. C. I. E la nuova sinistra extra P. C. I. Seppur in modo diverso, contrastarono la lotta armata, se avessero fatto quella scelta sarebbe stata la guerra civile. Il contrasto fu poi palesemente evidenziato quando le BR a Genova assassinarono l'operaio comunista Guido Rossa. Prima di sparare puttanate su cosa furono quegli anni, consiglio vivamente un ripasso storico, lasciate l'imbecillità e la malaffede solo a quell'ignorante di Salvini.